Palermo-Napoli è l'anticipo serale della dodicesima di campionato, una sfida che torna in Serie A a distanza di 35 anni. Zalacetta, l'ingresso in area di rigore, prova il tiro, c'è una direzione, arriva Lavezzi, il sinistro, Fontana, ancora Superman. Il pallone per l'inserimento di Amsic, palla cautelamolosa per il Napoli. E' finta di Caserta su Gargano, scarica ancora su Capuano, c'è un palo su Caserta, si prosegue Capuano, il cross, tedesco, palo! Poi non è finito, Simplicio va giù all'interno dell'area di rigore, è tutto regolare, è una bolgia la favorita. Simplicio verticalizza, c'è una deviazione, pallone buono per Brienzio, può puntare verso l'area avversaria, Brienzio il sinistro, palo ancora! Ancora il Napoli che insiste, il cross di Bugliasino, secondo palo c'è Cannavaro di testa, sponda, pala cresta lì, attenzione Lavezzi, il sinistro a Fontana, e poi libera l'impresa del Palermo. Un assedio! Dentro per Diana, sponda per Brienzio, quasi a limite, Brienzio carica il sinistro, Giezzo è partito in ritardo, ma poi ha fatto una grande parata. Parte Simplicio, sottoporta, Giezzo! Lavezzi, le cross morbide in aria, colpo di testa, rete! E il vantaggio del Napoli con Bugliasino che ha anticipato tutti. Zaccato con il piede, cercato e il pallone ha trovato il volto di Bugliasino. Pisano, le cross, secondo palo, Tedesco mette giù, prova il tiro, Tedesco, rete, rete! E il pallone del Palermo, gran gol di Tedesco! Garic su Cavani, parte Brienzio, sottoporta, rete! Rete, il pallone del portaggio, ancora lui, Tedesco! Il pallone per Garic, chiude Pisano, dal fondo Garic, cross arretrato, Amzic, Fontana! E poi il pallone messo fuori, il Napoli insiste! Insiste Lavezzi, Pisano l'attacca, parte il traversone, colpo di testa e palla fuori! Finisce qui e esplode Rezzo Barbera! Al termine, era incredibile, la gritta di Amaury, il Palermo, batto grande Napoli, finisce 2-1!